Non aprite quella porta, recita il titolo di un film horror di qualche anno fa. E seguite questo consiglio se non volete che la vostra giornata, come nel film omonimo, si trasformi in un brutto incubo. Abbiamo raccolto questa mattina la testimonianza di una nostra telespettatrice che abita nel quartiere di San Lazzaro e che ci ha chiamato per denunciare un fatto accadutogli nella giornata di ieri. Hanno suonato ai citofoni, io sentivo dai citofoni che chiamavano, mi hanno richiamato per la seconda volta, per cui ho risposto. Mi hanno detto che erano di Marche Multiservizi, la voce maschile, Marche Multiservizi, che dovevano controllare il gas. Al che io ho detto, guardate, fuori dall'appartamento c'è il contatore, quindi dovete guardare lì. No, signora, guardi, dobbiamo guardare le bollette per cui dobbiamo entrare per guardare le bollette a livello amministrativo. Ho detto, non mi interessa, grazie, e ho chiuso. Io non ne ho aperto, non li ho fatti entrare e ho chiamato subito i carabinieri invece. E i carabinieri mi hanno detto, signora, nella maniera più assoluta non apra mai la porta in questi casi. Questo è quanto ci tenevo a farlo sapere perché c'è gente che magari ingenuamente apre la porta e se li trova dentro casa delle persone poco raccomandabili. La tecnica è sempre la stessa, in due, alle volte c'è anche una donna per catturare la fiducia delle persone. E con carte alla mano, suonando alla porta, chiedono di vedere delle bollette che chiaramente, come tutti, teniamo in casa, ben custodite. E mentre uno finge di fare delle verifiche su non si sa bene cosa, catturando l'attenzione del malcapitato, il secondo, con la scusa di andare in bagno, vaga per la casa alla ricerca di soldi o gioielli. Al momento l'unica attività che stiamo svolgendo, non noi direttamente, ma la nostra partecipata, che è AS Fano Distribuzione Gas, è la lettura dei contatori gas in questo momento. Quindi la ditta che lo sta svolgendo è tartaruga, quindi il personale che sta svolgendo questa attività si presenterà con apposita tesserina di riconoscimento e comunque in ogni caso l'attività è la lettura del contatore. Sicuramente Marche Multiservizi non ha la concessione della distribuzione gas a Fano e quindi non svolge tale attività, né letture né controlli dei contatori. Va da sé che, come più volte ricordato anche dalle forze dell'ordine, prima di far entrare sconosciuti in casa propria va accertata bene l'identità di chi suona il nostro campanello. Ma se non siete più che sicuri, potete chiedere chiarimenti direttamente all'ente interessato. Se vi sono dubbi, invito i cittadini a chiamare l'ufficio clienti di Aset allo 0721 81481 per informarsi, per chiedere delucidizzazione sull'eventualità di nostro personale che chiede accesso. In ogni caso l'accesso viene richiesto per leggere contatori interni alle abitazioni, non per altro.